Domenica 4 ottobre ci ha lasciati Kenzo, Kenzo Takada. Aveva 81 anni ed è stato uno dei pilastri centrali del mondo della moda che stava nascendo agli inizi degli anni 70. Gli anni del grande design, della creatività più sfrenata, della passione incondizionata. Lo conobbi a Parigi nel 73 durante la settimana dell'alta moda e mi fece visitare il suo atelier laboratorio dove disegnava e creava le sue opere con grande semplicità come fossimo dei vecchi amici. Gli feci un ritratto insieme alla modella con cui stavamo lavorando che risalta credo tutta la sua modestia e sobrietà da ragazzino sorridente che lo ha sempre distinto. Un piccolo omaggio ha un grande designer con cui lo voglio accompagnare nel suo ultimo viaggio. da ragazzino sorridente che era un grande designer con cui lo ha sempre distinto. Grazie a tutti.